Sarà un weekend il prossimo davvero attrazione sportiva per la città di Montesivano? Tanti gli eventi organizzati dall'amministrazione comunale assessora? Sì, fortunatamente nonostante i ritardi dovuti purtroppo per fortuna alla tornata elettorale stiamo dando una bella accelerata a partire da questa settimana per quello che riguarda l'intrattenimento soprattutto nell'aspetto delle manifestazioni sportive. Questa settimana infatti sul territorio di Montesivano sono previste numerose attività che hanno già riempito gli alberghi, infatti sarà impossibile trovare un posto letto in quelle strutture per questi giorni. Sono previsti un torneo internazionale di calcio a 5, la Montesivano Futsal Cup che è la sua settima edizione sul territorio di Montesivano e ogni anno porta oltre 4.000 presenze tra istruttori, atleti e anche società di oltreoceano quindi è una manifestazione che dà molto risalto al territorio. Di concerto con questa partirà anche la seconda tappa del Mundial di Beach Soccer che per il secondo anno Montesivano ospiterà e che verrà trasmessa sulle piattaforme Sky. Questo evento ci sarà nelle giornate di sabato e domenica e verrà accompagnato da delle manifestazioni collaterali che riguarderanno le associazioni calcistiche del territorio e di quartieri del territorio infatti daremo vita alla seconda edizione del Mastrangelo on the Beach. Per concludere domenica invece ci sarà una giornata dedicata al pattinaggio presso il Palacongress insieme all'associazione Inline Skating che in collaborazione con Decathlon darà l'opportunità a tutti i ragazzi che vorranno di Montesivano e non di provare questa esperienza, di provare quindi ad andare ad avvicinarsi alla disciplina della rotellistica fornendo tutta l'attrezzatura con dei tecnici qualificati e tutto questo quindi praticamente arricchirà questo primo weekend, questa prima settimana di eventi montesilvanesi e siamo pronti finalmente quindi a partire. Sindaco, Montesivano si conferma città a vocazione turistica e sportiva? In più di due occasioni durante la campagna elettorale negli scorsi giorni ho rimarcato quanto Montesivano ha sempre vissuto e deve vivere sempre di più di turismo e di eventi. Non a caso questa settimana ci saranno sul nostro territorio una serie di eventi sportivi di calatura addirittura internazionale ma anche un importante concerto che è sintomatico di quel cambio di passo in questa direzione che la mia amministrazione intende regalare alla nostra città. Siamo soddisfatti di quanto fatto appunto in questa settimana nonostante i ritardi dovuti alla tornata elettorale e questo fa ben sperare non soltanto noi ma mi auguro anche tutti i cittadini la misura in cui è quello che sicuramente si aspettano ed è quello che faremo nei prossimi anni. Regalare alla nostra città sempre più turismo e sempre più sicurezza anche da un punto di vista appunto turistica legata alla permanenza dei turisti sul nostro territorio e anche una città più decorosa per la quale ci stiamo impegnando all'agremente in questi giorni in collaborazione anche con le associazioni del territorio.